La presentazione del 62esimo mercatino dei ragazzi del Calcit, quest'anno è stato scelto l'Istituto Piero della Francesca, perché? Ma dunque intanto tutti gli anni scegliamo una scuola fra quelle che sono sempre state vicino al Calcit fin dalla sua nascita. Diciamo che c'è stata anche una motivazione in più perché siamo qui in Via Malpighi, siamo nella zona dove c'è stato questo problema della rimozione dell'amianto. Fortunatamente mi sembra che siamo tutti d'accordo da Rizzo con queste istituzioni e abbiamo deciso appunto di farlo in questa scuola anche per mettere in evidenza e mantenere l'attenzione su questo problema che anche questo è un fatto riferito alla prevenzione. Poi la scuola insieme ai cittadini di Via Malpighi saranno presenti anche al mercatino e ovviamente speriamo che tutto vada bene. I vostri ragazzi parteciperanno a questo mercatino? Sì, noi avremo una rappresentanza soprattutto delle scuole primarie perché il nostro è un istituto che è molto ampio sul territorio, quindi coinvolgeremo le cinque primarie che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca che non stanno fisicamente qui in Via Malpighi ma insomma la tematica coinvolge tutti. Siamo in Via Malpighi, si è parlato della questione Amianto, è un tema che vi preoccupa, una situazione che vi preoccupa? No, io sono fiducioso nelle istituzioni, mi sembra che abbiano attivato tutte le procedure per mettere in sicurezza le zone, quindi da questo punto di vista qui è importante comunque che i ragazzi siano sensibilizzati sul tema dell'educazione e la salute in senso generale, quindi questa è stata più che altro un'occasione per ribadire l'adesione a un progetto che è molto più ampio rispetto a una tematica estremamente importante come questa gestione dell'Amianto.